Una tradizione radicata nel territorio, quella del teatro Ammodica. Teatro amatoriale, come suole definirsi, ma che, grazie all'impegno e alla dedizione di tante persone, ha poco da invidiare al professionismo. Ammodica in questi giorni ha festeggiato i 30 anni di attività la Compagnia del Piccolo Teatro, che ha creato una vera e propria generazione di attori. Una passione contagiosa, trasmessa spesso da padre in figlio. La Compagnia del Piccolo Teatro è sulla scena, è il caso di dirlo, da sei lustri, durante i quali ha acquisito tanta professionalità, contribuendo a fare amare il teatro a migliaia di persone. Ma qual è il segreto di una vita così lunga? Il segreto di questa vita così lunga sicuramente è data dai rapporti umani che si sono sempre creati tra i componenti del Piccolo Teatro. Primo fra tutti bisogna ricordare l'origine. Il Piccolo Teatro nasce in una parrocchia, nella parrocchia del Carmine di San Paolo, con l'allora padre Scivoletto, che credette moltissimo in questo gruppo. Per cui da questo nocciolo sicuramente religioso, che continua ancora a vivere all'interno del gruppo, si sono sprigionate delle relazioni umane che hanno permesso di superare momenti belli e momenti meno belli. Un compleanno, quello della Compagnia del Piccolo Teatro, impreziosito anche da un messaggio di auguri dell'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. È stato un regalo bellissimo di Don Corrado che noi conosciamo da anni e con cui abbiamo condiviso dei percorsi. Don Corrado ci ha invitato a riflettere sulle due parole che formano il nostro gruppo. Innanzitutto su che cos'è una compagnia e quindi sulla bellezza appunto del coltivare le relazioni e poi sulla bellezza del teatro, che diventa un motivo di unione tra di noi e anche un motivo per regalare delle emozioni a chi ci guarda. Avete portato all'esterno della nostra città il nome di Modica. Sì, è stata una delle conseguenze, perché il punto di origine del Piccolo Teatro è lo stare insieme. Però da questo poi è nato l'amore che si è sprigionato per il teatro, con tante persone che ci sono, con altre che hanno deciso di andare, con altre che si sono avvicinate. E da questa bellezza dello stare insieme ne sono nati tanti spettacoli che poi ci hanno permesso anche a noi di fare esperienze fuori, oltre Modica, in Sicilia, anche fuori dalla Sicilia. Ma alla base di tutto c'è sempre stato, da 30 anni a questa parte, il divertimento, la bellezza dello stare insieme. Programmi per i prossimi 30 anni? Per i prossimi 30 anni non lo so. I programmi sono tanti. Nell'immediato concludiamo ora la rassegna di Teatro Dialettale, il 27 gennaio, con Miseria e Bella. E poi il 2019, il quarantesimo, dalla morte di Raffaele Puedomani. Noi siamo molto legati a questa figura, per cui abbiamo in cantiere una serie di manifestazioni per ricordare questo grande figlio di Modica. Grazie. 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 Grazie.